Va in pensione dopo 40 anni di servizio il luogotenente Fabrizio Lucchetti, comandante della stazione dei Carabinieri di Andiari, Tifernate di Nascita. Lucchetti ha svolto principalmente il servizio aderezzo a comando provinciale Caprese Michelangelo, chiudendo il suo percorso con l'arma ad Andiari dove ha comandato la stazione. Il Consiglio Comunale di Andiari ha riservato una cerimonia di encomio per il servizio dato prima dell'inizio della seduta di lunedì 27 marzo. Il sindaco Polcri, a nome della comunità, ha offerto una riproduzione artistica raffigurante la battaglia di Andiari. Lucchetti, nel ringraziare i presenti, non ha nascosto la sua emozione. In sala numerosi colleghi ed altri rappresentanti delle varie forze dell'ordine della zona.